Scende da 36 a 25 il numero dei pazienti positivi al covid in quarantena domiciliare in città. Sono in tutto 19 in provincia i pazienti in osservazione domiciliare guariti, 6 clinicamente guariti a Caltanissetta, 22 completamente guariti, sempre nel capoluogo. Nelle ultime 24 ore un nuovo ricovero al reparto di malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia e un paziente di San Cataldo. Sono in tutto 28 i pazienti positivi a San Cataldo, e sono 40 in tutta la provincia i pazienti guariti, 158 il numero dei pazienti che sono positivi al covid rispetto a ieri, aumenta di un'unità.